Vediamo qua il capo dei servizi segreti. Putin è sdraiato in una posizione di dominanza e di strafottenza. Guarda con uno sguardo nel vuoto, come se il suo interlocutore non esistesse. Qui si mette in avanti mentre afferma le sue cose, mentre notate l'imbarazzo totale e il blocco. Ecco qua, di nuovo Putin in una posizione di dominanza assoluta e con uno sguardo paranoico. Mentre i nostri servizi segreti, eccolo qua, è totalmente impacciato e non riesce a dire quello che vorrebbe dire. Totalmente bloccato e impettito, si trova in una posizione di grande difficoltà. Mentre Putin ride pure e prova uno sguardo sadico. Ecco, è stata una situazione in cui Putin ha dimostrato sadismo totale.